Ciao a tutti e bentornati! Ok, ho concluso la lettura anche del terzo libro della serie di Karen Sander. Mi manca il quarto e ultimo, per il momento, che in realtà non ho. Ho il fiatone perché mi ha smanato il postino che era arrivato un pacchetto, poi ci sarà un book haul fra qualche giorno. Allora, parliamo di Guarda o Mori, di Karen Sander. Appunto, edizioni giunti, prezzo di copertina era 14,90, io l'avevo acquistato, usato su Vinted. Dicevo che è il terzo episodio della serie con Georg Sadler e Elisabeth Montario, commissario di polizia e psicologa criminale. Allora, questo libro è assolutamente wow. Allora, sicuramente il mio preferito tra i tre che ho letto, in questo ho dato addirittura le 5 stelline e non le 4 come negli altri due libri, perché a questo qua veramente, secondo me, non si poteva fare meglio. Di cosa parla? C'è sempre un caso, ma in questo caso praticamente viene coinvolto anche Georg. Quindi, in realtà, lui non segue la... scusate, batteria scarica. Non segue le indagini in veste ufficiale perché viene temporaneamente sospeso. Litz si ritrova, è in Germania, per altri motivi e si ritrova poi, come sempre, completamente coinvolta in questa faccenda. Cosa molto interessante è che stavolta analizziamo anche un po' più da vicino gli altri due personaggi, ovvero gli altri due poliziotti, e cioè Birgit e Miguel. E mi piace affrontare, cioè, davvero sono stati analizzati più profondamente, forse, e insomma, sono sempre due personaggi principali. Detto questo, non ho molto altro da dirvi, devo assolutamente recuperare il quarto volume. Questo qua si legge d'un fiato, è veramente al cardiopalma, un colpo di scena dietro l'altro, una roba... wow! Io ve lo consiglio. Penso sia meglio leggere tutta la serenze di fila, però comunque l'indagine in sé è autoconclusiva. Questo qua, veramente, veramente, wow! Io adesso vi saluto e noi ci vediamo, alla prossima! Ciao!